Il nostro negozio da Osta è strutturato sui millimetri quadri ed è suddiviso in vari settori dove troviamo erboristeria, tutto il reparto alimentare dedicato all'intolleranza e abbiamo anche prodotti freschi. Abbiamo poi un reparto dedicato all'abbigliamento, alle calzature, cosmesi naturale. Abbiamo anche molti prodotti dedicati al mondo sportivo. Noi come Biobottega siamo nati a Torino 25 anni fa e abbiamo cercato di portare avanti questo concetto del biologico proprio nato da un'esigenza di intolleranza alimentare che avevamo in famiglia.